E' pertissima! Vabbè E' la carrozza! Ma è arrivata la principessa! Ma io qua mi avevo lasciato la zucca! E i topini! E lui, in quanto topini, se la sono rubata! E io? Come torno a casa? Ma pensa, a giorno d'oggi c'è ancora chi non ha l'auto! Personale! E io! Carrozze, automobili, oggi non servono più! Ci sono altre soluzioni! Ecologiche, sostenibili, a portata di tutti! Wow! Questa storia è una favola! Aspetta! Hai dimenticato una cosa! La scarpetta? No! Il casco! E sii prudente! Mobilità sostenibile! Tutta un'altra storia! Otrì, ampio k autonomia la città ma il creiamoì Foreént! Facuto un'altra storia.